Finalmente arriverà un'azienda, una multinazionale tedesca e porterà 65 posti di lavoro, un investimento da parte dell'azienda di quasi 90 milioni di euro e questo è importante perché va a consolidare, non va in competizione con le aziende che già ci sono nel nostro territorio, ma va a consolidare il settore del packaging accessalto. Vuoi la posizione strategica, vuoi la necessità di rafforzare la filiera in Europa, di certo è un investimento dai grandi numeri, quello che la multinazionale tedesca Pro Group, leader nel packaging, sta pianificando accessalto. La variante urbanistica necessaria all'intervento è stata adottata dal Consiglio Comunale, ora i tempi si fanno stretti. Ci vorranno tre anni per realizzare tutti gli interventi, tra cui ci sarà anche un intervento sulla provinciale di una nuova rotonda per permettere poi il deflusso dei camion in maniera ordinata. Una fabbrica 4.0 ad elevata automazione e con tecnologie sostenibili, questo almeno l'obiettivo, nell'intervento anche un cosiddetto magazzino verticale. Ci sono dei magazzini che sono alti e quindi così si evita il consumo di suolo industriale, che è uno dei problemi che affligge il Veneto, quindi ben vengano questa tipologia di investimento. L'arrivo della multinazionale sarà graduale, così come l'assunzione di mano d'opera, per lo più specializzata, non facilmente reperibile sul mercato. Si hanno detto che cominceranno già nel prossimo anno ad assumere i primi dipendenti perché vogliono formarli.